ciao a tutti oggi facciamo insieme un nuovo slime e andiamo a provare questa colla che ho trovato dai cinesi di questa marca qui e vediamo se funziona vado a mettere un pochino come vedete molto densa come colla ok poi metto un po di schiuma da barba iniziamo il colore poi vado a mettere un po di dentifricio poi metto un po di balsamo poi metto un po di questo qui che è un sapone con un po di acqua ora mettere un po di acqua qui metto un po' di crema a mani questa qui è della essence se vi interessa e metto un po' di borodalco metto un po' di sapone per mani metto un po' di olio ok adesso provo a mettere un altro po' di colla a mettere un po' di rosso a mettere un po' di rosso a mettere un po' di rosso ok mi sa che è finito mescoliamo bene adesso provo a mettere un po' di questo colore che dovrebbe essere il fluo e vediamo che succede a mettere un po' di rosso un altro po' oh mio Dio ha fatto un rumore un po' di rosso 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 ok direi che così può bastare adesso vado a mettere l'acido borico che come sapete che come sapete ho assolto in acqua e ho messo in questa bozzettina quindi vado a mettere e vediamo se funziona perché non lo so potrebbe anche non funzionare quindi è tutto uno spreco però vabbè speriamo che funziona a bollandone goza in un po' di rosso non so molto in un po' di rosso Metto un po' di bicarbonato. O niente, scusate. Mmm, chissà serviano. Sì, scusate. Sucsate. Arriba di mieれた. Sucsate. Cucsate. Cucsate. Biccone. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, provo a prenderlo con le mani. Come vedete è venuto e anche abbastanza bene, devo dire. Guardate, è un colore fichissimo, cioè wow, è tipo sull'arancione, rosa, non si capisce, è tipo salmone credo, non lo so. La bellissima. Vediamo se fa il rumore. Vedete. 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 fatemi sapere se questo video vi è piaciuto mi raccomando se ancora non siete iscritti iscrivetevi, mettete like e noi ci vediamo in un prossimo video ciao